L'elisuperficie della Asla di Pescara può sopportare un peso pari a 18 tonnellate. E' quanto si evince dal risponso della prova di carico commissionata dall'azienda sanitaria locale per capire se lo stabile utilizzato per il decollo e l'atterraggio degli elicotteri sia o meno idoneo a sostenere il peso dei nuovi vettori impiegati per il soccorso sanitario. A darne notizie è Armando Mancini, manager della Asla di Pescara, durante la conferenza stampa di presentazione di tre delle cinque nuove ambulanze in dotazione all'azienda sanitaria locale. Ubicata sullo stabile adibito a parcheggio dell'ospedale Santo Spirito di Pescara in via Fonte Romana, l'elisuperficie della Asla del capoluogo adriatico risulta inutilizzata da circa un anno. I mezzi sanitari di soccorso aereo sono attualmente autorizzati all'utilizzo dell'elisuperficie dell'aeroporto. La soluzione, definita temporanea, ha però rinfocolato le polemiche di chi contesta la lontananza dell'aeroporto dall'ospedale Santo Spirito di Pescara, con ambulanze costrette ad attraversare il traffico cittadino e ad allungare inevitabilmente i tempi di soccorso dei feriti gravi. Noi abbiamo avviato uno studio fatto dall'ingegnertanzi dell'Università della Facoltà di Architettura, ingegnere, che ha studiato la struttura di questo elisuperficie, soprattutto la struttura statica, in accordo con il Comune, sull'autorizzazione col Comune di Pescara, e poi ha proceduto a fare quella che si chiama prova da carico, quindi per vedere se il solaio regge e quanto regge. E il solaio è risultato reggere 18 tonnellate. Adesso noi abbiamo trasmesso questa documentazione all'ENAC, perché 18 tonnellate vuol dire che è possibile far atterrare su queste risuperficie anche elicotteri dal peso maggiore di quelli che avevamo prima, quindi i nuovi elicotteri di cui la Regione si è dotata. Siamo in attesa che l'ENAC esamini tutto ciò e ci possa dare un'autorizzazione in merito. E sulla vicenda delle nomine dirigenziali relative al cosiddetto spoil system e a quanto annunciato dal governatore Marsilio sull'immediato cambio di vertici dei dipartimenti regionali, il direttore generale dell'ASL pescarese risponde così. In verità c'è una fase che si chiama di contraddittorio, in cui gli uffici regionali danno una valutazione in punteggi di un operato e poi la norma vuole che noi si faccia un contraddittorio, cioè si facciano delle contraddeduzioni che dureranno 20 giorni, un mese, all'esito delle quali poi la Giunta valuterà sulla base dell'istruttoria fatta dagli uffici regionali dove è la ragione e dove è meno. Quindi diciamo che la questione è ancora aperta. Quando si è insediata questa Giunta hanno chiesto un passo indietro a tutti coloro che erano stati nominati dalla precedente amministrazione. Adesso ci sono nomine che si chiamano spoil system, quindi che dipendono e ci sono altri che sono contratti di lavoro, quale è quello che io ho. Grazie.